Ciao ragazzi vi volevo avvisare che venerdì 24 luglio saremo a Roma via Tiburtina 521 all'epics party ci sarà lo show di tua madre leggenda con Stephanie, Surreal Power, Vegas, Anima, Joker, CiccioGamer89 quindi ragazzi se volete venire passate nel link in descrizione dove trovate il sito per comprare i biglietti perché i posti sono limitati quindi chi compra prima il biglietto riesce ad entrare a questo evento ci sarà uno show e poi ci sarà anche la possibilità di stare insieme se volete venirci a trovare ci vediamo venerdì ciao attento stai attento calma zì molto che fa? no fermi lo voglio arrodizzatore no che torna baby è il buffo oh yeah like like subito like incredibile salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su un nuovo gioco che ovviamente vado a cercare a scavare tra i meandri dei giochi vecchi troviamo the duck game in compagnia di ciccio steppni è su real power ciao a tutti ragazzi questo gioco se volete l'avete visto sul canale di steppni è un gioco di quelli a cazzeggio tipo speedrunner però fa troppo divertire cioè una fottuta oca con un fottuto bazooka fucile o quel che è per uccidere per uccidere esatto allora direi di fare prima una tutti contro tutti e poi facciamo una due contro due dai dai pronti dai pronti ma steppni 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 certo abbiamo dato il punto a steppni proprio così ma è arrivato sul real sparando tipo boh oddio c'è il bazooka ma vedi mi sono ucciso da solo ma hai rotto il pavimento ahahah guarderlo anche a me che cosa si va bene io sono ancora mia squadra merda oddio però non ho armi e non riesco io si no attenzione steppni contro ciccio ciccio c'è un fottuto bazooka in mano cos'è ma era steppni di solito non fa niente double kill c'è due vittorie già per steppni non va bene fan cule mio uh rilacciagranate oh mamma mia ah cos'è quel cosa cos'è ma strato ma che merda di armi state trovando caccia all'anatra anche tu sei un anatra che voi c'è sta pieno ho lanciato un fiore perché sei mio amico ok ok ho trovato un'arma che spara le onde che muore ma ma perché questa è cos'è sto roba qua voglio uscire la pistola ok lasciami lasciami e morite no oh no c'è merda ho finito l'arma ho finito l'arma ho finito l'arma ho finito l'arma no attenzione io sto a zero io e tesori siamo a zero no ha preso l'altro no ha preso l'altro zero surri cosa facciamo cosa stiamo combinando dobbiamo arrivare a 5 dai dai si può recuperare che cosa fa? non lo so non lo so c'è un pacco regalo ma volevo mandarti no ma te non sono congelato sono congelato no 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 piccione di merda raga c'è l'arma definitiva c'è la motosega ma no dai ma vaffanze vabbè ciccio sta proprio in feed cazzo alla gears of war ciccio è in feed ancora per poco lo stronzo cazzo guarda come sparano guarda cazzo è finita oddio non ci credo sul salto guarda un rallentatore questo un rallentatore beccati questo rallentatore si non ci sono assi si si grandissimo grandissimo oddio cos'è quel co è morto è come si tira la granata non ci credo uuuu raga ciccio non sai in 3 yard assoluto eh no no pazzo ha preso la pista all'occhio fanculo la mia vendetta sono morto da kamikaze ma volevo mettere il tronco in testa prima di ucciderti raga ciccio ci sta distruggendo è un malattissimo 10 a 0 tipo guardala a 0 no vabbè ma i 10 no non sei voglio vedere surri no abbiamo fatto 0 a 0 grandissimo grandissimo no facciamo le squadre 2 contro 2 io vado con ciccio no io con ciccio no 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 io e te abbiamo fatto 0 quindi uno con ste vai te con ste no io vado vai te va bene ste sei pronto no ciccio no ste che cazzo vuoi ciccio è troppo in feed su sto gioco vai finalmente dai c'è l'acqua nel bidet che cappello vuoi ste la pallina che cazzo è touring contro log vai andai così uniconcentrato eh touring contro log aspetta vandere in bagno ma quali sono io sei sotto sei sotto sei vicino a quello ma anche da lui ah oddio ero nascosto nell'albero raga oddio ok l'ho ucciso uno sono contro due eh ah no mi ha dato fuoco dai è così la rabbia ho vinto ma va aia ahahah cos'è ma qualcuno ha non lo toccare surri non lo bravo ma il guacamole ha uccidito le persone ma io non ho fatto niente e ho vinto a me bravo surri non dire così ok mi piace questo spirito non rincapisco niente con sto tronco te giuro non c'è andare da solo come ti ho ucciso ti rendi conto cercherò di vendicarti cercherò di vendicarti vedi questo fucile te l'ho fatto il culo ah 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 ok te le trasporti dove cazzo sto andando non capisco un cazzo bene buttalo di sotto buttalo di sotto mi ha congelato ciao ahahah e vai due punti di fila dai recupero dai recupero dai 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 ah dove sono io non capisco mai chi sono ci sono congelate a vicino mi ha palettato vai buttali giù anche a me chi sei non so chi sei oh non ci credo non ci credo ha fatto double prima di essere a pallottolato ridicolo a caso attento qua che qua si cade i pacchi i pacchi no ma hai rotto che cazzo mo io non ci sei uno non ci sei uno vai ci giù la troviamo addirittura facciamo la carbonela facciamo la che cazzo vuoi la ana tra la griglia ahia no levati oh che ha vinto che è successo massacro generale allora calda calda cazzo sta succedendo ma scusa che è successo lì aspetta no no vai così ci sono rimasto da solo vieni vieni ti faccio compagnia io no 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 vieni qua vieni qua vieni qua oh non sono imbalzato da per giù attento eh attento surriè e dai troppo forte troppo forte cioè noi abbiamo fatto niente due kill che scarsi eeeh eeeh sette punti noi due cos'è sta roba dai non avete le palle abbastanza grandi non avete le palle abbastanza quadrate cos'è sta roba ma che cazzo è sta roba cosa ha fatto ma non lo so uccidilo te ma vai surri no no attenzione il teppri contro surri teppri evita tutto che cazzo hai preso un galleggiante e dai ah mi sono portato mi sono portato uno dietro dai ste capito non ci credo non ci ha dato il punto perchè è morto pure ste oh mio figlio ma che la fangloyaman a gioco fa un culo e non ci credo no ho preso il punto non ci credo non ci credo dico questo mi piace attento ste ok dai mori double kill bene così non mi uccidere hanno preso due punti prendiamo due punti non coglione non fai idiota calmo attento alla merda ah 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 no spagnati dai trasporti spagnati dai trasporti eh con calma zi attento ste attento attento con calma zi che fa no che torna no fermi lo voglio rallentatore la sparata nel teletrasporto la sparata nel teletrasporto la voglio rallentatore like subito like no è bellissimo quella killy no è bello molto no no straordinaria attento dobbiamo prendere due punti ste calma per due oh che cazzo è che la parla ahahah 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 ma porca due ragazzi è tesa nessuno parla eh no no troppo importante oh l'armatura no la difesa porca merda cazzo oh mio dio è tesissima non ho più armi per la chiave uso la chiave what the fuck chi è che sta ammazzato sto ammazzato io nooo non ci credo ahahah 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 oh ci ha aiutato ci ha aiutato ahia nooo ciao ahahah Sury ha preso una scatola a mano e ha vinto si per proteggermi dai colpi vai vai affanculo una killy cattivo no ci siamo uccisi la vicenda bene così bene così dai 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 no 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 cazzo sono andato c'è un fiore c'è un fiore c'è un fiore cosa è successo non lo so cazzo mia cazzo mia cazzo mia oh mio dio si è andata a fuoco tutta sono vivo sono io che ha vinto nooo ho cercato di dargli fuoco bene abbiamo preso due punti ste dai ma no ma eri un pollo chi ha vinto no 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 è davvero dura questa attenzione uuuuuh l'hanno fatti i tre punti l'hanno fatti l'hanno fatti nooo nooo cazzo c'è una scena di questo video che è epica stepney che lancia la bomba dentro la teletrasporto e gli ritorna in mano ed esplode quella è qualcosa di epico cioè a rallentatore perchè è da mlg proprio se questo video è piaciuto e volete un altro video con le papore che si uccidono e si sparano superiamo i 15.000 like ringrazio stepney ciccio e su realpaccio basti su video ciao ciao